Ciao, oggi eseguiremo tre esercizi per migliorare la tua mobilità delle anche e per ridurne il dolore. Primo esercizio, posizioniamo le gambe in questa maniera, con i talloni in appoggio. Da questa posizione portiamo entrambe le ginocchia verso un lato e poi dal lato opposto, cercando di mantenere il nostro busto il più fermo possibile. Da questa posizione cerchiamo di spingere le nostre ginocchia verso il basso. Nel caso in cui questo esercizio risultasse troppo difficile nel mantenere la posizione seduta, possiamo appoggiare le mani posteriormente e cercare di portare comunque le gambe verso il pavimento. Ci portiamo in posizione supina, una, portiamo una gamba verso il petto e l'altra la cavalliamo. Da questa posizione, posizionando le mani sotto dietro il ginocchio, cerchiamo di tirare le gambe verso il petto.